...lo è già oggi e lo sarà soprattutto nel futuro, per cui vorremmo capire, quindi questo forum diciamo europeo dei giovani sarà centrato proprio sul capire e poi sul dire la nostra, però per dire la nostra, per capire, dai movimenti, da quello che sta succedendo, dal blueprint di cui abbiamo sentito forse parlare, abbiamo avuto insomma delle reazioni un po' allarmate, però sappiamo che anche l'argomento è complesso e quindi chi meglio di te può in qualche modo aiutarci a capire che cosa sta succedendo, se queste politiche rispondono estremamente ad andare verso il diritto all'acqua, all'applicazione del diritto all'acqua, ad andare verso proprio la gestione di un bene comune, oppure come da quello che sono dei toni un po' allarmati che abbiamo sentito, invece si va verso la gestione di un bene comune, però vorremmo in qualche modo capire questo, cosa sta succedendo a questo livello, quindi ti lasciamo la parola su questo. Non a me forse dopo, ma non subito, buongiorno a tutti e tutti, chiedo scusa per il ritardo ma le indicazioni stradali non sono state, no no le tue erano buonissime, solo poi i pannelli non rispondono mai, non corrispondono mai a quanto è detto. Allora, effettivamente posso subito rispondere alla prima domanda fondamentale, la politica europea dell'acqua sta andando verso una concretizzazione, la politica come strumento, come da concretizzazione del diritto umano all'acqua anche in Europa oppure no? La risposta per il momento, e tenterò di mostrarlo, non va nella direzione di concretizzare il diritto umano all'acqua, salvo se per il diritto accesso al diritto umano all'acqua si intende che se si paga una tariffa ai prezzi di mercato, secondo il principio del recupero totale di costi di produzione, comprese il capitale, allora sì, se uno dice vuoi avere il diritto all'acqua, certo, ma dover pagare a un prezzo di mercato come tu vuoi avere l'automobile, paghi l'automobile al prezzo di mercato e ci avrai l'automobile, se non paghi l'automobile non avrai l'automobile, è la stessa cosa e quindi riguardo il diritto umano. Allora però per poter dare sostanza a questa prima affermazione a parte mia che la politica europea attualmente non va nel senso di creare le condizioni perché il diritto umano sia anche una roba concretizzato, ne va tantomeno nella direzione di riconoscere l'acqua come bene comune pubblico, anzi va verso sempre più la mercificazione, la privatizzazione, la monetizzazione dell'acqua, ecco ora tenterò di darvi degli elementi di riflessione, di conoscenze e poi spero che voi reagirete in modo che io possa approfondire altri aspetti che sorvolerò nell'introduzione. Per capire la politica europea dell'acqua bisogna pensare che ci sono due grandi matrici, sia politico-culturali che anche storico-pratico. La prima è la matrice ambientale e la seconda è la matrice della creazione del mercato unico integrato a livello europeo. La matrice ambientale dice che gli interventi che le istituzioni europee hanno fatto nel campo dell'acqua si riferivano a un problema di risposta a un degrado importante dell'acqua come risorsa, come elemento naturale. e quindi la base anche poi giuridico degli interventi della Commissione, perché voi sapete bene che ogni intervento della Commissione per essere approvato deve essere legittimo, deve avere una base giuridica. Ecco la base giuridica è l'articolo 175 dei trattati europei, i trattati europei, i quali dicono che gli Stati membri si mettono d'accordo o sono d'accordo per elaborare e condurre una politica ambientale europea. Su questa base giuridicamente la Commissione ha potuto fare tutta una serie di direttive, quindi che le direttive sono l'atto legislativo maggiore della Commissione europea e quindi delle istituzioni. Le leggi nazionali per esempio da noi sono opera del Parlamento, dei governi normalmente, ecco l'equivalente delle leggi sono le direttive, non si chiamano leggi europee però sono le leggi europee. La matrice ambientale è partita dall'idea che bisognava rendere le acque dell'Europa pulite, in effetti a partire dagli anni 70 tutti quanti cominciavano a dire ma qui le nostre acque sono contaminate, sono inquinate, i fiumi non sono più buoni, i laghi non si può più bagnare e quindi il problema, la pressione anche dell'opinione pubblica su come correggere, rimettere in buono stato ecologico naturale l'acqua di superficie, le falde, l'acqua quindi di profondità eccetera e tutte le acque per tutti gli usi è all'origine dell'intervento dell'Unione Europea in materia dell'acqua, rendere l'acqua pulita, se diciamo in ordine, tradurlo un pochino in un nuovo slogan. Ed ecco perché a partire dagli anni 70, 75, 78, la Commissione sforna e il Consiglio Ministro del Parlamento Europeo sforna tutta una serie di direttive, direttive sui nitrati, direttive sul trattamento dell'acqua reflue, direttive sui prodotti farmaceutici eccetera eccetera e quindi tenta attraverso queste varie direttive settoriali di attaccare i problemi dell'inquinamento come pulire l'acqua e la cosa principale fu quella sui nitrati e sui prodotti industriali perché l'agricoltura, voi sapete, è uno dei principali fattori di inquinamento e di contaminazione perché quando utilizziamo l'agricoltura ad alta intensità chimica potete immaginare che le conseguenze sull'acqua con i prodotti ad alta tossicità, che è un'intensità chimica di sintesi, non un'attività chimica naturale, fa sì che effettivamente bisognava portare sui nitrati e su tutti gli altri inquinanti di origine agricola e di origine industriale. Ed è così che pian piano si arriva al 2000 dove la Commissione fa una direttiva a quadro, mette tutti insieme queste varie direttive, per cui si può dire che la direttiva europea del 2000 che istituisce un quadro di regolazione della gestione dell'acqua in Europa, questo è il titolo della direttiva, è la grande legge, prima grande legge europea sul tema dell'acqua. Nel frattempo, cosa è successo sempre rispetto alla questione dell'ambiente, nel frattempo nel 1992 a livello di Rio de Janeiro del primo vertice mondiale alla terra, i paesi europei soprattutto, influenzando la banca mondiale, e la banca mondiale prendendo le decisioni a livello mondiale decidono, accettano la comunità internazionale per la prima volta nella storia dei paesi occidentali, accettano di affermare che l'acqua non deve essere più considerata un bene sociale, un bene da natura e altre cose simili, però deve essere essenzialmente considerato un bene economico. Ora dovete immaginare che la nozione di bene economico in un'economia e società che è fondata sui principi dell'economia capitalista di mercato dice che il concetto di economico usato da queste definizioni è relativo ai principi e meccanismi dell'economia capitalista di mercato. Ed è lì che questo si chiama il quarto principio di Dublino. In effetti poi nel 1993 la banca mondiale, sulla base di questo principio, propone un grande modello della gestione dell'acqua che si chiama Integrated Water Resource Management. e l'integrated resource water management si dice che l'acqua deve essere trattata come un bene economico e che quindi l'applicazione dei principi del prezzo di un bene economico in funzione del recupero dei costi totali di produzione di questo bene economico deve essere lo strumento economico di gestione dell'acqua. Quindi... La...